Siano lodati Gesù e Maria Cari fratelli e sorelle, oggi meditiamo sull'efficacia del Santo Rosario nell'approfondire e conservare la fede in chi devotamente recita questa preghiera. Il 29 ottobre del 1972 il Superiore Provinciale dei Dominicani nelle isole Filippine scrisse una lettera a tutti i religiosi. In quella lettera riportavo un episodio molto edificante riguardante la preghiera del Rosario. Un padre dominicano di quella provincia, il padre Florentino Castagnon, fu incaricato dal suo superiore nel 1951 di partire missionario per le isole Babuianes, a nord delle Filippine. Gli abitanti di quelle isole non vedevano infatti un missionario da varie generazioni. L'ultimo era stato ancora un dominicano che prima di lasciarli aveva detto loro «Se verrà qualcuno da voi a presentarsi come ministro della vera religione, accoglietelo solo se viene con il rosario». Quando dunque, dopo circa un secolo, videro arrivare quel padre, osservarono subito che aveva la corona. Vedendola appesa alla sua cintura, felicissimi lo accolsero tra loro. Il missionario, visitandoli, restò meravigliato anzitutto di vedere che tutti erano regolarmente battezzati e conoscevano bene i principali misteri della fede. Come mai? Tra loro, uno era incaricato di riunirli tutte le domeniche per la recita del rosario. Poi provvedeva a battezzare i bambini. Così per un secolo. La gente, essendo domenica, recitava sempre i misteri gloriosi e aveva dimenticato gli altri misteri. Ma essi, i misteri gloriosi, erano stati sufficienti per conservare quel popolo nella fede cattolica. Da questo episodio impariamo l'efficacia del rosario nel radicare sempre di più la fede nei nostri cuori e di conservarla integra. Pregando il rosario, noi meditiamo sui misteri della nostra fede. Da questa meditazione deriverà una fede sempre più salda. Anche nella vita di San Francesco Saverio si racconta un episodio molto simile. San Francesco Saverio aveva un metodo missionario molto mariano. Egli insegnava ai neofeti, ovvero ai pagani che si convertivano al cristianesimo, la recita del rosario. Non vi era altro modo più efficace per mantenere salda la fede in quelle popolazioni da poco convertite. Inizialmente operò in India e poi dall'India giunse in Giappone. Anche qui lo stesso metodo missionario, insegnare la recita del rosario. Con il rosario, San Francesco Saverio non solo faceva catechesi e inculcava l'amore filiale alla Madonna, ma operava anche guarigioni e miracoli. La cosa, dapprima sorprendente e meravigliosa, divenne poi semplice e comune tra i cristiani. La Madonna era davvero vicina a questo suo figlio e confermava con i miracoli la sua dottrina e la sua vita. I fedeli si erano abituati a chiedere in prestito a San Francesco Saverio la sua corona del rosario e la facevano passare da un malato all'altro affinché guarissero. A guarigioni avvenute, spesso il rosario non ritornava più a San Francesco Saverio perché lo si voleva conservare per devozione e ricordo, con grande riconoscenza. A volte egli stesso era richiesto con insistenza per una visita a qualche ammalato e, se gli era proprio impossibile, affidava il suo rosario ad alcuni fanciulli perché lo portassero all'infermo e glielo appoggiassero sopra. I ragazzi facevano così e non era difficile che l'infermo guarisse. Per questo, persino gli stessi pagani, per curare i loro infermi, si facevano prestare il rosario di San Francesco Saverio. E la Madonna non mancava di far sentire la sua presenza di grazia anche a loro. San Francesco Saverio raccomandava a tutti con premura la devozione del Santo Rosario assicurandoli che con questo mezzo stavano sotto la protezione della Madonna e non sarebbero mai andati perduti. Prima di lasciare il Giappone, voleva infatti raggiungere la Cina, il Santo Missionario disse più o meno queste parole. Passerà molto tempo prima che di nuovo giungerà un missionario cattolico. Voi lo riconoscerete da questi due segni, dal celibato e dalla recita del rosario. Passarono alcuni secoli e nel XIX secolo giunsero nuovamente dei missionari cattolici. Quei missionari trovarono ancora dei fedeli e questi fedeli riconobbero i missionari da quei due segni indicati da San Francesco Saverio. Di generazione in generazione i cristiani si tramandavano quelle parole e attendevano con fiducia l'arrivo degli uomini di Dio. Quella dei cristiani in Giappone è una delle pagine più commoventi di tutta la storia della Chiesa. Essi si mantennero fedeli tra mille difficoltà. Avevano solo il battesimo, infatti in caso di necessità chiunque può battezzare, e la preghiera del rosario. La Madonna li sosteneva e li incoraggiava e il rosario era la loro forza. E ora, cari fratelli e sorelle, termino con la benedizione. Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto il frutto del tuo seno Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, ad esse nell'ora della nostra morte. Amen. E per intercessione della Beata Vergine Maria di San Giuseppe, vi benedica e vi custodisca il Signore Onnipotente, e vi liberi da ogni male. Nel nome del Padre e del Figlio e dello Spirito Santo. Amen. Siano lodati Gesù, Giuseppe e Maria. Sian biologica Siano lodati Gesù, Giuseppe e Maria. Grazie a tutti.